Musica Bentornato Guter, bentornata Dopo esserci lasciati alle spalle tutta la sezione di modifiche e impostazioni PC andiamo a dare un'occhiata al pannello di controllo di Windows 8.1 Update è possibile riprendere quanto già scritto nella lezione 96 e il rispettivo video tutorial Cos'è il pannello di controllo? È una console generale, il centro di controllo dove tu puoi comandare tutte le impostazioni relative al sistema operativo È un'interfaccia grafica del sistema operativo importante dal punto di vista dell'uso e quindi delle impostazioni Ti permette di prendere visione e manipolare più o meno correttamente le impostazioni di base del sistema operativo aggiungendo o rimuovendo dispositivi hardware o software per renderlo più adatto alle tue necessità Nelle oltre 30 lezioni che ho trattato in Windows 7 puoi sicuramente recuperare le informazioni più importanti sull'impiego di queste sezioni del pannello di controllo Troverai delle differenze senz'altro rispetto a tale sistema operativo ma sono utili come approccio iniziale, supporto e fino alla lezione 130 con il rispettivo video tutorial ti potrai sbizzarrire se già non l'hai fatto Come accedi? Esistono varie possibilità La più rapida è cliccare con il pulsante destro del mouse Su Start dalla lista che si presenta troverai il pulsante omonimo e cliccaci sopra Altra possibilità avvia la Chamsbar Poi clicca su Impostazioni Già potresti trovare il pulsante del pannello di controllo ma altrimenti clicca ancora su Modifiche impostazioni PC e in fondo in basso a sinistra troverai appunto il pulsante pannello di controllo Ancora accedi al menu Start e dalla lista dei vari pulsanti troverai sicuramente quella del pannello di controllo per avviarlo Ce ne sono altre ma è sufficiente questo Diciamo qui uno screenshot di appunto Modifica impostazioni PC dove puoi trovare il pulsante pannello di controllo Cosa vedi? Beh, quando accedi al pannello puoi trovare di norma una visualizzazione suddivisa per categorie con tre modalità Categorie appunto, icone grandi e icone piccole Qui appunto una rappresentazione della suddivisione per categorie Selezionando per categoria naturalmente troverai tutte le sezioni raggruppate per tipologia Non avrai quindi una visione globale delle sezioni perché appunto suddivise per categoria Questa io non la utilizzo perché preferisco o la suddivisione per icone grandi o icone piccole che a mio modo di vedere dà una visione più completa Alcune ovviamente saranno diverse per versione o per software installati naturalmente nel sistema operativo Le categorie rispetto a Windows 7 che sono diverse grossonalmente sono Aggiunta di funzionalità a Windows 8.1 Area geografica Cartelli di lavoro Cronologia file Family safety Impostazioni di posizioni E spazi di archivazione Partiamo dalla prima aggiunta di funzionalità a Windows 8.1 Naturalmente già specifica bene il titolo Ti permette di aggiungere delle funzionalità al sistema operativo ovviamente se previsto dalla versione che tu hai Area geografica è utile per personalizzare le impostazioni per la visualizzazione di lingue, numeri, data e ora Cosa che abbiamo già visto anche in modifiche impostazioni PC Puoi consultare anche riguardo appunto la lezione 151 e rispettivo video tutorial Cartelli di lavoro Ti consente di accedere ai file di lavoro ovunque e in qualsiasi momento In modo da rendere i due file disponibili su tutti i dispositivi che utilizzi sia fissi che immobili ovviamente se sincronizzati Le cartelle dovranno far parte di una struttura Oppure dovrai crearne una se già non fa parte di questa struttura Sarà necessario quindi inserire i parametri di ubicazione dove sono memorizzati i due file Ad esempio un indirizzo URL delle cartelle dove sono presenti i file che hai memorizzato Cronologia file è utile per mantenere la cronologia dei file salvando in una copia per poterli ripristinare in caso di necessità Potrà impostare i parametri per la creazione di un backup come la selezione delle periferiche dove eseguirlo Intervallo temporale di ogni copia da creare, includere o escludere cartelle da salvare e altre opzioni Può tornarti utile a riguardo alla lezione 153 e il rispettivo video tutorial Family Safety, utile per la gestione della sicurezza in ambito familiare Ricalca la sezione controllo genitori in Windows 7 e appunto potrai vedere la lezione 97 e il rispettivo video tutorial Oppure la più recente 148 con video correlato Potrai ricevere in questo caso rapporti sull'utilizzo del computer da parte dei ragazzi e dei due figli Imporre delle limitazioni in termini temporali, quindi per quanto tempo possono rimanere connessi e utilizzare il computer Oppure i tipi di contenuti da visualizzare, limiti delle applicazioni da impiegare e altre opzioni Altra sezione impostazioni, posizione per configurare le impostazioni dei sensori relativi alla posizione Poco utile per una impostazione delle impostazioni fisse, direi come è il caso nostro tramite PC Desktop Spazi di archivazione è una strategia per la protezione dei file da errori delle unità Quindi potrai decidere di salvare addirittura su più unità i due file per offrirti ovviamente una garanzia maggiore per non perderli Potrai aggiungere anche unità man mano che si satura lo spazio di archiviazione A nostro livello domestico può non servire molto Ma immagina organizzazioni o aziende che memorizzano grandi quantità di file a distanze temporali molto brevi Tipo società telefoniche, banche, google e quant'altro Bene, Google, allora andiamo a vedere come attivare il pannello di controllo L'opzione più rapida è andare sul pulsante Start, cliccare con il destro e cliccare su Pannello di controllo Oppure avviare la Chance Bar Su pulsante Modifica Impostazione potresti già trovare qui il pannello di controllo Oppure da Modifica Impostazione PC Clicca su Pannello di controllo in questa sezione Altra possibilità Accedere al menu Start Massimizzare il numero di pulsanti E scorrere fin quando non trovi il pulsante Pannello di controllo Cliccandoci con il pulsante destro potrai anche aggiungerlo alla schermata Start Per praticità E cliccandoci sopra si avverrà appunto il pannello di controllo In questo caso hai una visualizzazione per categorie Che a me personalmente non piace Puoi scegliere alternativamente anche la visualizzazione per icone grandi o icone piccole E qui hai mostrato tutte quante le varie opzioni C'è da dire che questa rappresentazione sarà sicuramente diversa rispetto alle versioni del sistema operativo Che hai installato Ma comunque potresti anche trovarle in altre zone Cominciamo con una prima differenza Aggiungi funzionalità a Windows 8.1 Quindi se tu hai la necessità di aggiungere altre funzionalità E la versione te lo consente Cliccandoci sopra avrai la lista delle opzioni da poter aggiungere Cosa che non mi è possibile con questa versione Altra sezione area geografica Che ti permette di personalizzare le impostazioni come detto di lingua, numeri, data e ora Dalla finestra a seconda delle tue preferenze Potrai selezionare il modo di visualizzare di data ed ora Eventualmente anche impostazioni aggiuntive Per quel che concerne numeri, valute e quindi avvicinarlo sempre più alle tue esigenze Altra differenza cartelle di lavoro Che ti permette appunto di accedere ai tuoi file in qualunque posto ti trovi e su qualsiasi dispositivo Dovrai ovviamente installare le cartelle di lavoro Come o inserendo un indirizzo di posta elettronica della tua organizzazione Oppure mettendo un indirizzo URL dove sono ubicate le cartelle di lavoro Diciamo che al nostro livello, a livello domestico non è molto utile E torniamo al pannello di controllo Cronologia file in parte giallo abbiamo visto Ti consente di salvare una copia di file per poterli ripristinare Qualora risultassero persi o danneggiati Potrai decidere di selezionare un'unità qualora ce ne fosse più di una A te la scelta dove memorizzare i file Potrai anche decidere di ripristinare i file Ovviamente se sono andati persi o cancellati Selezionare l'unità dove li devi andare a memorizzare Come appena detto Escludere eventualmente le cartelle dove sono presenti i due file Oppure aggiungerne di nuove Ed eseguire anche impostazioni avanzate Che permettono di salvare i file ad intervalli regolari E altre impostazioni relative a quanto spazio su disco deve essere riservato E per quanto tempo devono essere conservate le versioni dei file salvati Torniamo al menu del pannello di controllo Andiamo a vedere rapidamente Family Safety Cosa che già abbiamo visto in controllo genitori e Windows 7 Cliccandoci sopra potrai avere in visione La possibilità di creare un account dei bambini Per poter ottenere informazioni utili all'impiego del computer Ed imporre anche delle limitazioni a contenuti da visualizzare E alle applicazioni da utilizzare Ti stimolo a visionare i video tutorial delle lezioni 97 e 148 Per recuperare alcune informazioni E lanciarti nella sperimentazione Laddove non sono presenti spiegazioni relative a questa sezione Torniamo indietro Altra particolarità è le impostazioni di posizione Che ti permette di configurare i sensori Che fossero collegati al dispositivo Naturalmente questo utile per la geolocalizzazione Tramite sensori GPS Cosa che non è attuabile naturalmente Per una postazione PC desktop A meno che tu non colleghi un'interfaccia GPS Ultima sezione Spazi di archivazione Ti permette di proteggere i file ed errori delle unità Potrai decidere di salvare i tuoi file su più unità Qualora ne avessi necessità Per l'impiego della tua postazione O dei tuoi computer Come già accennato durante la parte teorica Soprattutto se hai un'organizzazione Che memorizza file in maniera costante Se tu hai più di unità Naturalmente nel computer potrai Scegliere quale utilizzare A tale scopo Ricordando che ti può compromettere La presenza dei file su questi dispositivi Bene Nella prossima lezione Vedremo alcune opzioni Presente nel menu Start Ora un forte saluto Ciao a presto da Gallo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto